Le spiace se entro un momento. La prego, si accomodi. Grazie. Scusi solo lui. Tesoro, pare proprio che io debba affrontare un altro incontro d'affari. Credo sia meglio ti fermi lì fino domattina. Alla tv parlavano di slabini di fango sulla 405. Dunque, non vorrei dovermi preoccupare che tu vada fuori stessa. Però che peccato. Lo sai quanto mi accido quando fuori fiori. Me ne occuperò non appena arriverò a casa, ok? Ti amo. Allora, dottoressa Archer, che posso fare per lei? Ecco, mi sono resa conto di essere stata troppo brusca e che anche lei è stato abbindolato. Le voglio chiedere scusa. Forse non avrei dovuto fidarmi di freddi. E in effetti vorrei parlarle senza avere freddi fra i piedi. Perché non toglie quell'impermiabile umido e accetta un martini secco? Sì, grazie. Guardi che era una battuta di un film. Ah. Le va uno scotch? Grazie. Lo sa, Freddy è famoso per la sua inaffidabilità. E a causa della sua obbriachezza che perse posta alla UCLA University. Dal modo in cui l'ho visto bere non stento a crederlo. Cosa gli ha raccontato di me? Beh, che un suo caro amico ha tentato di ucciderla e... E che lei gli ha sparato per autodifesa. Una scena simile si è ripetuta un anno dopo, quando lei è andata a lavorare ad una stazione radio e... E un suo ex fidanzato ha tentato di ucciderla e la polizia gli ha sparato. E lo ha affreddato. Beh, immagino che idea si sarà fatta di me in base a questi racconti. Più che altro non condivido i suoi gusti in materia di uomini. Hai delle bellissime mani. Chissà perché ho sempre pensato che i produttori televisivi fossero poco attraenti. Davvero strano. Anche tu lavori per la televisione, eppure sei attraente. Quindi hai letto qualcosa che Freddy ha scritto su di me? Esattamente. Si tratta di una sceneggiatura che spero ti piaccia. È davvero ben fatta. È impossibile mettersi in viaggio. Pensavo di tornare a Los Angeles, ma non credo che lo farò. Non con questa tempesta. Di che avete parlato dopo che sono andata via? Ho detto a Freddy di lasciar stare, di smetterla. È molto strano, detto da uno che è venuto fin qui solo per parlarne. Era una buona idea, ma se non fossi venuto io sarebbe venuto qualcun altro. Ma se tu sei contraria, non ho alcuna intenzione di convincerti. Deve essere saltato un contatore. Chissà quanto tempo ci vorrà prima che torni la luce. Non puoi metterti al volante con questo tempaccio. Ti prendo la stanza. No, non importa. Ti ringrazio. Comunque dovrei aspettare che il temporale passi. È quello che ho intenzione di fare.